Una strada completamente abbandonata, piena di buche e con voraggini impressionanti, dove se malagoratamente qualche automobilista non riuscisse ad evitarle, ci finirebbe dentro con tutta la vettura. Anzi, ed il vero è già accaduto. La strada in questione sorge in Contrada Salera, a nord di Gela, poco dopo Contrada Balate, zona in cui sorge il carcere. Un percorso molto frequentato, soprattutto il martedì, in occasione del mercato settimanale. I furitori della fiera, infatti, per evitare l'intenso traffico che si registra in via Settefarine, preferiscono percorrere la strada parallela, ma a proprio rischio e pericolo. Ed un pericolo costante rappresentato anche da un palo della telefonia fissa collocato quasi al centro della carreggiata. Non possiamo neanche camminare qua. Noi abbiamo un'attività, abbiamo un olificio, abbiamo un magazzino di prodotti agricoli. Noi qua non possiamo neanche lavorare sia con l'olificio che neanche per i fertilizzanti. Noi paghiamo le tasse, paghiamo l'Imo, paghiamo tutto, paghiamo tutto quello che mandano a richiedere i soldi del 2008, del 2000. Quello che piace a loro mandano a richiedere, però non abbiamo nessuno servizio. Questa, se vogliamo, è anche una strada secondaria per accedere al mercato settimanale. E la gente che va al mercato ha dei problemi seri? Certo che c'è problemi seri. Persone che hanno lasciato la macchina qua diposatata perché hanno rotto la coppa dell'olio, che hanno avuto difficoltà e hanno costruito la macchina qua a noi. E addirittura qui quando piove? Quando piove peggio ancora perché l'acqua si supera più da 50 centimetri dei buchi. Non si vede buchi, non si vede strade, non si vede niente. Ne è andata a finire peggio del continente qua a noi, con questa strada. E voi più volte, come dicevamo, avete richiesto l'intervento del comune? Noi abbiamo richiesto, abbiamo fatto tre volte foto, tre volte film, abbiamo raccorto, l'abbiamo presentato al comune. E se le butto nel cestino, dopo che le butto non si fa nessuno presente. Si fanno presente solo per pagare i diritti. E non solo, strada dissestata. Non abbiamo nessuno diritto noi di qua, né di acqua, né di luce. Io per mettere la luce qua ho pagato 20.000 euro, più 20.000 euro per fare il progetto per Capannone. Dove sono andate a finire queste soldi? Che non abbiamo nessuno diritto. Più volte è stato chiesto l'intervento del comune, ma nulla, finora è accaduto. Penso che anche a Kabul le strade sono migliori di queste qua. Perché se consideriamo che questa è diventata, soprattutto per quando riguarda il martedì, una strada molto trafficata, perché la gente in alternativa al traffico che si crea su via Settefarine trovano questa strada come scorciatoia per raggiungere il mercato settimanale, questa strada è diventata una cosa che non si può sopportare più. Il comune di Gela mi fa pagare 10.000 euro di urbanizzazione per la realizzazione di un capannone, proseguendo con tasse quali IMU e cose varie, e io mi ritrovo a non avere né acqua potabile né strada di accesso, voglio dire.